Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature Regine Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno Ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi Perciò sovrano la regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino Stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccio vita perennio e la divina volontà Tu mi farei la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così posso restare sicuro di non uscire dal regno suo Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa Ave Maria piena di grazie il Signore è con te Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte 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 O mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, O mio Signore, Cristo Gesù, venga il tuo regno, Cristo Gesù, venga il tuo regno, mi fondo in te, Mi fondo in te, O mio Signore, per adorarti nel tuo volere. Emanuele, Emanuele, Cristo Gesù, venga il tuo regno, Venga il tuo regno, O mio Signore, Cristo Gesù, Venga il tuo regno, Cristo Gesù, venga il tuo regno, Nel tuo volere, O mio Signore, O mio Signore, Non sono io, più che io, ma tu chiedi di me. Emanuele, Cristo Gesù, venga il tuo regno, Dal breve esaggio sulla Divina Volontà, scritti di Luisa del 18 marzo del 1917, volume 12. Stavo pregando, fondendomi tutta in Gesù, e volevo in mio potere ogni pensiero di Gesù, per poter avere vita in ogni pensiero di creatura, per poter riparare con lo stesso pensiero di Gesù, e così di tutto il resto. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto, Figlia mia, la mia umanità sulla Terra non faceva altro che concatenare ogni pensiero di creatura con i miei, sicché ogni pensiero di creatura si ripercuoteva nella mia mente, ogni parola nella mia voce, ogni palpito nel mio cuore, ogni azione nelle mie mani, ogni passo nei miei piedi, e così di tutto il resto. Con ciò davo al Padre riparazioni divine. Ora, tutto ciò che feci in Terra lo continuo nel cielo, e come le creature pensano, i loro pensieri si riversano nella mia mente, come guardano, sento i loro sguardi nei miei, sicché passa tra loro e me, come elettricità continua, come le membra sono in continua comunicazione col Capo, e dico al Padre, Padre mio, non sono solo io che ti prego, che riparo, che soddisfo, che ti placo, ma ci sono altre creature che fanno in me ciò che faccio, anzi, suppliscono col loro patire alla mia umanità, che gloriosa è incapace di patire. L'anima, col fondersi in me, ripete ciò che feci e continua a fare. Ma quale sarà il contento di queste anime che hanno fatto la loro vita in me, con l'abbracciare insieme con me tutte le creature, tutte le riparazioni quando saranno con me in cielo? La loro vita la continueranno in me e come le creature penseranno o mi offenderanno con i pensieri, questi si ripercuoteranno nella loro mente e continueranno le riparazioni che fecero in terra. Saranno insieme con me innanzi al trono divino le sentinelle d'onore e come le creature mi offenderanno in terra, loro faranno gli atti opposti in cielo. Vigileranno il mio trono avranno il posto d'onore saranno quelle che più mi comprenderanno le più gloriose la loro gloria sarà tutta fusa nella mia e la mia nella loro. Sicché la tua vita in terra sia tutta fusa nella mia non fare atto che non lo fare passare in me ed ogni qualvolta che tu ti fonderai in me io riverserò in te nuova grazia e nuova luce e mi farò vigile sentinella del tuo cuore per tenerti lontano qualunque ombra di peccato. Ti custodirò come la mia stessa umanità comanderò agli angeli che ti facciano corona affinché resti difesa da tutto e da tutti. Poi c'è un ultimo versetto che è sempre del volume 12 ma è del 28 marzo del 17 Quando l'anima fondendosi fa i suoi atti immediati con me allora mi sento tanto tirato verso di essa che faccio insieme ciò che essa fa e trasmuto in divino l'operato della creatura Bene, in questo scritto ricorre un termine tecnico della vita nella divina volontà che sarà oggetto di particolare attenzione durante una meditazione che è appunto quello di fondersi la fusione ha usato in diverse circostanze questo termine Gesù parte il fatto che chi legge gli scritti di Luisa si accorgerà di alcune espressioni ricorrenti specialmente al principio di ogni nuova scrittura trovandomi sempre nel mio solito stato oppure stavo pregando come oggi fondendomi tutta in Gesù eccetera quindi il solito stato non è altro che quello di essere completamente fusa con la divina volontà Gesù usa l'espressione l'anima col fondersi in me ripete ciò che fece e continua a fare e ancora ogni qualvolta che tu ti fonderai in me io riverso l'enteno la grazia e nuova luce ancora la loro gloria sarà tutta fusa nella mia e la mia nella loro sicché la tua vita in terra sia tutta fusa nella mia non fare atto che tu non faccia passare in me ecco l'immagine della fusione è un'immagine molto bella è stata già affrontata chiaramente perché i temi evidentemente sono ricorrenti nelle meditazioni perché il processo di fusione non che quello nucleare d'accordo ma anche il processo di fusione ordinaria non fa altro che causare un'unicità diciamo così di sostanza anche dalla pluriformità delle fonti di fusione quindi dentro il crongiolo qua le alte temperature dove le fusioni avvengono tutto diventa uno allora il vertice diciamo così l'unione con la divina volontà consiste esattamente in questa fusione come si realizza la fusione ecco c'è un atto che si chiama proprio l'atto di fusione che come l'atto preventivo è bene farne oggetto di rescita quotidiana mentre si può rinnovare similmente la fusione con Gesù o con Maria o con la divina volontà ricordiamo sempre che queste tre cose sono sinonimiche interscambiabili se si preferisce molto semplicemente come abbiamo sentito anche nel canto introduttore di questa meditazione mi fondo in te Cristo Gesù basta e avanza quindi non serve fare chissà quali grandi operazioni teniamo sempre presente prima adesso di andare a meditare insieme l'atto di fusione che si può fondere questo lo scriveva anche San Luigi se non ricordo male nel trattato della vera devozione alludendo ecco l'unione con con Maria Santissima che si può fondere chiaramente una materia disposta alla fusione quindi non refrattaria a questo tipo di procedimento noi teniamo sempre presente che ci deve essere qui vi permetto di rimandare molto alla meditazione di ieri che è di una importanza assolutamente straordinaria non per niente nel trattato appunto in questo breve esagio della divina volontà la meditazione di oggi è immediatamente seguente a quella di ieri quasi a voler instaurare un rapporto come dire di non di causa effetto ma di prerequisito in relazione a quello che accade cioè se ci sono tutte e quante le forme di pseudo e falsa santità viste ieri non ci può essere nessuna fusione con la divina volontà nessuno quindi questo dobbiamo sempre ricordare per evitare che si instaurino anche in questo mondo tutto divino quelle tentazioni ricorrenti anche nell'orbe cristiane io lo chiamo la tentazione della magia o dell'automatismo capite questa viene dappertutto mi faccio la comunione ecco chi lo sa divento santo vado alla messa di liberazione e sono liberato dall'ultimare le sofferenze e tutti i tanti problemi vado al pellegrinaggio e cambia la vita faccio l'atto di fusione e sono fuso con la divina volontà dico fiat 30 volte al giorno e sono diventato un cittadino del regno della divina volontà ecco bisogna fare molta attenzione a riascoltare la meditazione di ieri d'accordo ecco non esistono perché questa continua ricerca cioè di un qualche cosa che avvenga in maniera tutto e subito ecco immediato e senza fatica ci piacerebbe a tutti quanti che fosse così quindi è una tentazione ricorrente ma queste cose non accadono d'accordo c'è sempre l'esercizio della nostra libertà cosciente in dialogo con Dio completamente aperta dinanzi a lui quindi risposta a farsi aiutare perché sono molte purtroppo le cose che in noi possono renderci assolutamente refrattari alla fusione col divino volere Dio lo vuole d'accordo però se quelle cose non vengono tolte da noi e la divina volontà ci aiuterà a toglierle ma non senza di noi è mia fermissima personale certamente convinzione però fondata sui principi generali della spiritualità della dottrina della grazia cattolica e delle ascesi che non si può assolutamente raggiungere l'unione con la divina volontà quindi prego ecco chiunque sta seguendo queste meditazioni di riprendere di ascoltare di meditare e di lasciarsi denudare senza paura dalla meditazione di ieri che si chiama falsa la vera e la falsa santità perché senza aver risolto tutti quanti quei nodi senza essersi liberati da tutte quelle catene senza aver smascherato tutti quanti quegli inganni che ci sono nel nostro cuore io non credo che si possa raggiungere quello che adesso insieme vedremo prima ancora ecco di commentare brevemente presentare a commentare l'atto di fusione ricordiamo le parole stupende che dice Gesù primo il posto che queste anime avranno in cielo bellissima l'immagine sentinelle d'onore vigileranno il mio trono avranno il posto d'onore quelle che più mi comprenderanno e le più gloriose per comprendere per comprendere questa cosa noi dobbiamo sempre ricordare che in paradiso nel paradiso dice San Tommaso c'è il premio essenziale che è nel genere per riuscire ad essere chiaro uguale per tutti cioè si vede Dio a faccia a faccia lo si conosce solo che c'è un problema Dio è una fonte di amore di felicità infinita la partecipazione che noi avremo a questa infinitezza è proporzionata al grado di gloria che abbiamo raggiunto se va subito un esempio chi è stata più beata in terra la Madonna o Padre Pio questa è una domanda retorica indubbiamente la Madonna perché la Madonna anche sulla terra ha ricevuto talmente tanto da Dio che nessuno può raggiungere quel livello questo vuol dire non soltanto pienezza di grazia ma vuol dire anche già in questa terra anche se questo non ha cancellato in Maria i dolori che doveva affrontare come corredentrice una pienezza di conoscenze di godimento di Dio che nessun'altra creatura ha dice sempre San Tommaso se uno arriva in paradiso che si è salvato all'ultimo momento perché ha fatto un atto dei misericordi a essere fatto il purgatore fino al giudizio universale poi comunque arriva quello sarà felice però è come un recipiente che ha capacità uno e Dio lo riempie con uno la capacità della Madonna non è incalcolabile è quasi infinita capite ma un grande santo strepitoso supponiamo che abbia una capacità di 10 milioni e Dio la riempie di 10 milioni voi capite c'è la differenza di contentezza e di felicità che c'è tra chi ha 10 milioni e chi ha uno è enorme e anche se quello che ha uno non se ne rende conto è enorme lo stesso ecco queste anime dice Gesù saranno insieme con me innanzi al trono divino le sentinelle d'onore allora le sentinelle d'onore è innanzi al trono divino vigileranno il mio trono quelle che più mi comprenderanno questo è un termine tecnico no? i beati in cielo o santo Tommaso li chiama i comprensori si chiamano così tecnicamente comprensori cioè quelli che comprendono la divina essenza quelle che più mi comprenderanno e le più gloriose tanto quanto la loro vita in terra è stata fusa con quella di Gesù perché la fusione in terra con la vita di Gesù produce la continuazione dei suoi atti riparatori di tutti quindi se noi siamo fusi con Gesù abbiamo la stessa identica cosa che ha vissuto lui e possiamo dice fare in lui ciò che lui ha fatto supplendo col nostro patire alla sua umanità che è gloriosa e che è incapace di patire e con questo assumere di avere una forza riparatrice e impetratrice di grazie presso Dio e glorificatrice dell'altissimo che niente nessuno può avere in questo mondo l'atto di fusione quotidiano io lo leggerei brevemente e poi breve commento Gesù fonditi in me ed io mi fondo in te Gesù facciamo tutto insieme fondiamoci a vicenda nella volontà nei desideri e nell'amore per potermi fondere nei desideri nella volontà nell'amore di tutte le creature affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere e poi fondo tutte le mie piccole particelle nelle tue per potermi fondere in tutte le particelle delle creature per darti per tutte quell'amore quella gloria e quella soddisfazione che tutti ti negano e ti chiedo di suggerire questo mio atto Gesù con la tua benedizione per me e per tutti vita mia Gesù mi fondo tutto nella tua santissima umanità divinità parte per parte perché la tua umanità per centro di vita è la divina volontà e chi vive in essa vive in questo centro diffondendo luce dovunque e a tutti fondo quindi Gesù la mia intelligenza nella tua intelligenza la mia memoria nella tua memoria la mia volontà nella divina volontà fondo il mio sguardo nel tuo sguardo il mio olfatto nel tuo Gesù la mia voce nella tua voce il mio dito nel tuo fondo le mie mani e le mie opere nelle tue mani e nelle tue opere il mio palpito e il respiro nel tuo palpito e il respiro e la circolazione del mio sangue nella circolazione del tuo sangue o mio amato Gesù ecco un atto che sembra estremamente semplice ma è assolutamente trasformante e da significati molto molto profondi comincia con fonditi in me quindi si chiama Gesù vedete che c'è sempre il rispetto che è sempre Dio che ha l'iniziativa quindi si chiama Gesù a fondersi in noi fonditi in me ed io mi fondo in te c'è sempre Dio si muove e la creatura risponde quindi c'è questo scambio reciproco poi lo abbiamo visto nei giorni scorsi Gesù facciamo tutto insieme ecco nella vita nella divina volontà ricordo quello abbiamo detto nei giorni scorsi si realizza una assoluta come dire oserei dire simbiosi comunanza non si fa più nessuna cosa da soli o da se stessi le due parole da bandire in questo mondo faccio io faccio da me non c'è questo è un esercizio continuo interiore ma non ci stanno nemmeno gli ordini ricordo quello che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi l'anima che viene nella divina volontà non prende gli ordini l'anima che viene nella divina volontà capisce al volo quello che Dio vuole e lo fa tranquillamente insieme con Gesù facciamo tutto insieme fondiamoci a vicenda nella volontà nei desideri e nell'amore queste sono le tre molle più importanti dell'essere umano la volontà è la prima cosa che la regina è il nostro cuore i desideri chiediamoci che cosa desiderio profondamente nel cuore faccio un riferimento un pochino profano in un bellissimo film molto antico pluripremiato con gli Oscar che è il silenzio degli innocenti la storia di questa figura inquietante di questo psichiatra cannibale mezzo matto interpretato da Anthony Hopkins che si diverte un pochettino ad aiutare questa gente a trovare un serial killer e a un certo punto citando tra l'altro un filosofo pagano che è Marco Aurelio e per far comprendere di queste cose l'importanza del desiderio che il desiderio è veramente la molla che muove sia la volontà che l'amore perché la volontà va dove sta il nostro desiderio e l'amore è la stessa cosa il desiderio è come dire è è l'accendino d'accordo è la fiamma che mette in moto l'amore per questo che nella Sacra Scrittura si dice si 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 legge che Dio penetra e scruta i desideri del cuore e dovremmo imparare a farli pure noi e chiederci che cosa desidero io veramente nel profondo qual era il desiderio di Gesù quali erano i desideri di Gesù nella vita terrena i desideri che erano poi alla base delle sue intenzioni gloria di Dio salvezza delle anime riparazione dei peccati quello psichiatra pazzo per dare una pista per trovare questo serial killer gli dice guarda questo non è semplicemente un matto questo è uno che desidera che ricorda che si desidera ciò che si vede tutti i giorni stava dandogli una dritta per localizzare diciamo così questo assassino seriale quindi e da chi ha alimentato il desiderio o da quello che vedo quello che vedo tutti i giorni o da quello che penso perché nel regno della divina volontà sono così importanti come Gesù spesso ripete le conoscenze perché quando uno legge queste cose la prima cosa che dovrebbe accadere è che il desiderio si accende e comincia a desiderare con tutto se stesso una vita così stupenda così divina e così soprannaturale questo desiderio immediatamente accende l'amore e nell'amore si brucia tutto quello che c'era e rimane solo questo e desiderio e amore formano come dire la base su cui la volontà risoluta parte e non la ferma più nessuno allora chiaramente la volontà e desiderio e l'amore di Gesù erano perfetti a differenza dei nostri quindi il primo oggetto di fusione sono la volontà i desideri e l'amore di Gesù e attraverso questa fusione immediatamente ecco il mistero della divina volontà e con la sua immensità abbraccia tutto e tutti in tutti i luoghi e in tutti i tempi per potermi fondere nei desideri nella volontà e nell'amore di tutte le creature affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere quindi questo atto non produce solo effetti estremamente straordinariamente benefici in chi lo compie ma per il mistero della divina volontà che abbraccia tutto e tutti porta e apporta ho detto proprio porta e apporta dei benefici in tutte le creature bellissimo quest'altra espressione fondo tutte le mie più piccole particelle nelle tue ancora per potermi fondere in tutte le particelle delle creature per darti per tutte quell'amore quella gloria e quella soddisfazione che tutti ti negano ogni minima particella ogni minimo atomo del corpo di Gesù quindi capite non più due ma una sola cosa la seconda parte mi fondo tutto nella tua santissima umanità divinità parte per parte perché la tua umanità per centro di vita è la divina volontà e chi vive in essa attenzione vive in questo centro diffondendo luce dovunque e a tutti chi vive in essa vive in questo centro diffondendo luce dovunque e a tutti questa diffusione unione di luce avviene a due livelli uno come appena visto completamente spirituale misterioso cioè l'unione di anche una sola anima con la divina volontà apporta luce apporta amore apporta benefici anche se non lo sanno a tutte le anime di ogni luogo di ogni tempo e questa è la cosa più grande perché tutto è completamente dipendente dalla divinità perdonatemi il termine della divina volontà però questa luce diviene anche la caratteristica propria e personale dell'anima fusa con la divina volontà per cui questa luce la porta diciamo concretamente nelle circostanze contingenti di spazio e di tempo in cui si trova a vivere ed operare nella sua esperienza terrena sapete che la luce Dio è luce quando si pensa a luce si deve pensare al sole il sole illumina e riscalda quindi queste anime solari perché chi è fuso con Gesù è un piccolo sole all'imitazione del sole divino che è Gesù e che cosa porta? Porta conoscenza quindi porta conoscenza vera porta amore sincero autentico porta pace questa luce come dice Gesù nel Vangelo traspare anzitutto dagli occhi la lucerna del corpo è l'occhio se il tuo corpo sarà nella luce il tuo occhio sarà luminoso ma se il tuo corpo sarà nelle tenebre la luce che è in te tenebra sarà quindi si vede un'anima che vive nella divina volontà per questa sua solarità che è chiaramente il contrario della solarità è la mestizia è l'essere cupi l'essere cupi può assumere tante sfaccettature l'essere tenebrosi che è la peggiore che è proprio di chi vive a riflattare la luce quindi nel peccato ma anche l'essere adombrati insoddisfatti indepressi ansiosi infelici tristi malinconici fino a quando c'è questo siamo lontani dalla fusione con la divina volontà poi prosegue fondo quindi mio Gesù le tre facoltà spirituali l'intelligenza nella tua intelligenza la memoria nella memoria e la mia volontà nella divina volontà lo capite che cosa significa anche fare questo gesto anche se non ci rendiamo conto Gesù che pensa in noi Gesù che ricorda in noi Gesù che vuole in noi e poi i sensi il mio sguardo nel tuo sguardo la vista il mio olfatto nel tuo l'olfatto la mia voce nella tua voce le corde vocali il mio udito nel tuo e infine tutte quante le azioni le mie mani e le mie opere nelle tue mani e nelle tue opere perché tutte le nostre azioni siano divine e gli atti inconsapevoli il mio palpito e il respiro nel tuo palpito e il respiro e la circolazione del mio sangue la circolazione del tuo sangue mi ha dato Gesù vedete che tutta la nostra persona tutta nessuna esclusa dalla mia particella alle facoltà spirituali ai sensi agli atti alle operazioni inconsapevoli a tutto quello che noi siamo e facciamo la si porta in fusione con Gesù questo atto più si rinnova e meglio è soprattutto quando dobbiamo fare delle cose molto importanti parlare con una persona avere un importante colloquio pregare meditare io prima di fare la meditazione cerco di farla la fusione con la divina volontà sperando che non sia io a parlare ma qualcun altro parli in me e attraverso di me perché quello che io dico non serve a nulla né alla chiesa né al mondo quello che qualcun altro potrebbe voler dire usando le mie corde vocali e le mie facoltà chiaramente che partecipano coscientemente a queste operazioni potrebbe essere molto molto importante questo è il vertice della vita nella divina volontà e questa è la tensione che dobbiamo continuamente perseguire come detto già negli altri giorni non bisogna ordinariamente pensare che questo accada di botto dall'oggi al domani occorre tutto quanto un costante diuturno e perseverante lavorio interiore che molto ripeto ancora tenga in considerazione quanto ho meditato ieri e che poi si eserciti in questo con l'atto di fusione io consiglio di recitarlo almeno una volta al giorno uno dei momenti adatti o almeno lo faccio in quel momento è subito dopo la comunione sacramentale il momento in cui in realtà noi e Gesù siamo sacramentalmente ma realmente una cosa sola e quindi è il momento mi avviso più opportuno con cui cercare e chiedere con tutte le nostre forze questa fusione da cui ripende tutto il bene della nostra vita e tutta la nostra santità facciamo come sempre un minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione la meditazione Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amo e ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la Sua Madre Santissima prima di iniziare la Sua Passione, quindi per mezzo intercessione. Della Beata e sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggero della te Divina Persona finché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunica di imprimere nella tua volontà il suggero della Sua Potenza, restituendo la sovrania di tutto, nel nome del Figlio Gesù comunica di imprimere nel tuo intelletto il suggero della Sua Sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunica di imprimere nel tuo amore la società del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sei risanato da ogni infermità spirituale e corporale, richiede la benedizione di ogni benedizione della tua anima e per circondarti di difesa contro il demone del mondo della carne insieme con Gesù ti benedico tutte le cose da lui create, affinché tu lo ricevi a tutto e benedico da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come un abbissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Iat Ave Maria